Siamo benvenuti vi farò vedere come si fa a fare una installazione di OpenSim su una macchina Ubuntu 12.04 io adesso sto usando, come vedete mi sono creato una macchina virtuale qua, c'è un server dedicato su Amazon però qualunque server che vi dia una possibilità di accedere a un Ubuntu 12.04 o simili, va bene insomma su Amazon qui ho questo server qui ho dato un indirizzo IP vedete che c'è questo indirizzo IP ho la possibilità di collegarmi attraverso Putty quindi io devo avere ancora come strumento Putty che è un sistema per collegarsi che mi dà un terminale SSH vedete che io sono entrato sulla mia macchina Ubuntu e qui mi fa vedere e qui vediamo la facciamo, vediamo un po' queste qui sono informazioni interessanti qui mi dice che c'è 8 GB di disco mi dà l'IP anche che è una cosa interessante quando entro e poi posso fare un top per vedere la situazione di questa macchina che ora come ora è vuota quindi questa macchina in questo momento ha 1,7 GB di memoria principale di cui 1,5 GB sono liberi ho scelto la versione questa versione che dà un po' più memoria perché con meno di 1 GB diventa difficile far girare delle SIM e qui c'è ancora un pochino di swap a dire il vero neanche tantissimo quindi bisogna sempre avere libero possibilmente memoria reale la swap io mi fido abbastanza poco diciamo una memoria di emergenza e quindi come tale da usarsi soprattutto per OpenSIM soltanto in casi di emergenza qui vedete che in questo momento è attivo un SSHD che è quello il demone con cui sto parlando adesso con questo Putty con la console che la ragiona con questo protocollo e in più mi sono anche configurato un WinSCP che è questo che consente di lavorare permette di fare copia di file via SSH e quindi si può configurare una sessione e spostare come fosse FTP tipo FileZilla tutti quelli che hanno lavorato con sito web hanno più o meno le idee chiare in particolare qui l'unico file che ho copiato o che sto copiando è questo 0.7.4 che mi ha dato l'IQRAU quindi ls vediamo abbiamo questo 0.7.4 rel.postfixes.zip che sarà il nostro la nostra sim che dobbiamo configurare con Craft ora però essendo vergine questa macchina io se faccio mono che è il programmino dovrei in realtà aver installato già tutto ma non ce l'ho quindi c'ho quasi niente qua non c'ho neanche per dire l'unzip vedete c'è tutto ciò è tutto tutto da installare quindi questa è proprio macchina vergine quindi cosa faccio mi baso su alcuni appunti che mi ha lasciato sempre l'IQRAU ecco solo una cosa prima di partire appunto per installare una sim dovete in ogni caso chiedere conferma su Craft intendo l'IQRAU per avere sia questo file per installare la sim dove tra l'altro c'è anche questo readme e sia anche le coordinate di installazione della sim questo è importantissimo perché non si possono installare delle sim in un posto in cui c'è già una sim quindi io mi sono fatto dare questo file adesso qui per aprirlo vedete che dovrei fare un sudo lo dice lui apt get install unzip quindi cominciamo magari a prenderci il nostro unzip e qui dobbiamo costruirci un po' la terra sotto i piedi qui siete in tempo reale a meno che non tagli poi dopo eccolo qua sta arrivando quindi a questo punto se scrive unzip vedete che ho l'unzip quindi in pratica su ubuntu ubuntu è una cosa abbastanza semplice tutto sommato anche se come l'avete qua non è grafica però si usano dei comandi se mancano bisogna installarli col sudo apt.get quindi apt.get l'ho sempre visto come apri di sesamo nel senso che dà delle possibilità quindi ls fa vedere la lista di file facciamo l'unzip di 0.7 qui c'è la magia del tab che ci fa l'autocompletion unzip di questo folder e questo vedete che mi crea tutto quindi ls vedete che ls-l mi insegna anche un po' di linux dal punto zip che mi ha dato l'iq abbiamo generato un folder dove ci sarà la nostra sim ma al momento lasciamo lì e cerchiamo di vedere nelle istruzioni che ci ha dato l'iq come si opera quindi lui dice vedete ci mancano dei pezzi quindi apt.get quindi il mono e il nant e il subversion quindi cosa facciamo prendiamo questa riga la copiamo andiamo in questa console ci mettiamo su do e poi ho preso il tasto destro per farla copia o se no insomma in qualche modo fate incolla facendo così cosa succede fa più bene quello che ha fatto prima per lo zip ma si va a cercare allora lo ti chiede di continuare y maiuscolo quindi basta che faccia invio e lui mi scarica 223 megabyte notate che questi è molto veloce perché lo scarico avviene sul server dedicato non avviene sulla vostra macchina quindi sta scaricando adesso un bel po' di robetta quindi c'è tutto il mono che servirà per lanciare la sim quindi qui vedete tutto in tempo reale quindi vediamo quanto impiegherà per installare tutto questo baradam dunque proviamo a fare mono meno version per vedere se è arrivato mono dice che manca beh proviamo vediamo un po' cosa cosa ci dice quindi il mono non ce l'ha fatta perché gli manca un pezzo ma proviamo a dire un attimo cosa ci dice lui di fare di installare il mono runtime vedete che ho selezionato e poi col tasto destro ho fatto un incolla automatico andiamo un attimo se ce la facciamo qualcosa sta tirando giù in più rispetto a prima mono meno version mono meno meno version ok e abbiamo la versione 2.10 di mono in realtà ci mancano ancora un po' di cosette che andiamo a mettere quindi facciamo sempre qui un sudo e poi dobbiamo installare queste altre cose che servono vediamo un po' se funziona facendo così ah no non l'ho preso proviamo a fare copia sudo ok ci dice che deve scaricare altri 261 megabyte poco male i server dedicati come vedete riescono a farlo a velocità congrua quindi gli lasciamo fare tutta questa cosa però facciamo un attimo sudo apt get update perché mi sa che non è riuscito a fare un po' di cose quindi facciamo quello che ci ha suggerito lui di fare un sudo update non è detto che sul vostro sistema ci sia bisogno di fare questo però dato che ha dato questi errorini gli suggerirei di dargli un po' di corda ok sta finendo di fare l'update magari per sicurezza ci conviene rifare ecco questo qui monocomplete iniziale che prima aveva dato alcuni errori lo rifacciamo forse forse era meglio da fare un sudo update all'inizio però comunque insomma fare due apt-get install uno dietro l'altro dello stesso mestiere non dovrebbe essere un danno perché questo è un sistema che usa ubuntu per aggiornarsi automaticamente in maniera tutto sommato al di là del del casino che sembra che faccia è abbastanza indolore perché noi abbiamo solo detto il nome delle cose che vogliamo installare quindi l'unico problema qua è trovare il nome e avere ovviamente l'installatore che faccia le cose per bene infatti adesso ci impiega un pochino di più perché probabilmente ha dovuto è riuscito a trovare molta più roba quindi adesso dovrebbe essere un'installazione completa e soprattutto non ci da errori prima se vi ricordate aveva dato una serie di errori mai sottovalutare gli errori ok quindi qui si sta installando il mono come vedete il mono è la libreria che permette a OpenSIM di girare e non è installata normalmente su sulle macchine Unix diciamo vergini ecco perché dobbiamo fare questo pezzettino in più poi abbiamo installato anche un Nanta subversion che non servono in modo particolare ma comunque possono avere una loro utilità qui non dovrebbe ecco qui va bene la documentazione quindi c'è qualche errorino ma questo dovrebbe essere comunque accettabile in pratica i manuali di mono potrebbero non essere perfetti vedete che ci impiega sensibilmente di più perché gli ho detto di installare mono complete il mono è proprio un sistema un ambiente di sviluppo che simula in un qualche misura Windows una parte di Windows una parte di .NET di Microsoft su Linux quindi ecco perché è un po' complessa ok in realtà non ci aveva impiegato tantissimo quindi pochi secondi e aveva preso quindi rivediamo un attimo mono meno meno version se ce lo dà sì mi sembra super giù quello di prima rilanciamo comunque per sicurezza le altre apt-get che avevamo dato prima non l'update ma la mono runtime che dovrebbe già avere infatti vedete ce l'ha già qui non l'ha installata e rilanciamo invece quella lunga questa qua io sto premendo freccia in su per tornare sull'idea ridò questo apt-get install che era quella evidenziata qua vedete quindi rilancio questo perché voglio essere sicuro che lo rilancio ecco vedete che in realtà in effetti anche qua ci vanno quindi qua stesso discorso bagno sigaretta caffè o quello che fate voi quando aspettate anche se forse ce la fa un pochino più velocemente comunque questo qui installa una serie di cosucce comunque un pochetto vedete praticamente in questo modo noi stiamo semplicemente facendo delle istruzioni qua a parte che qui mancava un sudo update apt-get update che quindi per molti sistemi probabilmente necessario forse su alcuni non è necessario però in ogni caso anche se non fosse necessarissimo non dovrebbe neanche fare male tutto preceduto dal sudo in questo modo si installano tutte le cose di base paci che sarebbe il web server perché potrebbe servire i compilatori i gestori di immagini che servono al server per fare le immagini poi cos'altro qua c'è niente sono di font ha il php sempre per il php serve per la sempre per i siti web direi che qui è arrivato quasi anche lui verso la fine perché sta facendo i triggers che dovrebbero essere le ultime cose delle documentazioni ok quindi dovremmo ah si visto che è installato un server sta facendo un po' di mestieri perché sta tirando su il server ok visto che c'è allora qui io beh io lo faccio adesso netstat meno tamp grep 80 dovrebbe vedere ecco vedete ho chiesto se c'è qualcosa in ascolto sulla porta 80 con netstat e questo è un listen che è un web server l'80 è la porta standard del web quindi in teoria qui abbiamo visto prima che abbiamo installato di fatto il nostro il nostro un se sito web quindi qua per dire se io vedo l'indirizzo è P suo che è 10 questo qua e poi vado su su qua e gli chiedo questo indirizzo in teoria avrebbe dovuto rispondere però forse c'è ancora un problema di firewall comunque questo è l'ultimo poi lo vedremo come aprirlo effettivamente comunque diciamo che ha fatto per il momento quello che ci interessava e torniamo però alla nostra installazione quindi dopo il dopo il questa installazione facciamo ancora questo sudo di tutta questa parte qua la realizziamo eccolo qua qua facciamo un sudo di questo non di questo magari questo facciamo copia e qui facciamo magari con lo spazietto ok quindi stiamo installando ah dice il 5.1 non è ma proviamo a vedere se funziona dovrebbe in realtà funzionare anche con il 5.5 forse ubuntu 12.04 è un pochino più evoluto quindi ha bisogno probabilmente quelle istruzioni sono state fatte per il ubuntu precedente chi ha di package via retrati vediamo ecco qua visto che stiamo installando mysql che è il database dobbiamo mettere una password per root qui bisognerà mettere una password convincente per il momento io metto una password qualunque ma ovviamente anche voi dovete fare qualcosa che poi vi ricordate ok poi dovete ripetere la password che avete messo poi dovete dire epace tipicamente si mette io metto epace 2 perché mi piace abbastanza tab ho premuto spazio per mettere l'asterisco poi faccio ok a questo punto quindi ho premuto invio quando era su ok e quindi lui avrebbe dovuto installare il mysql server 5.5 incrociamo le dita per vedere se questa versione è compatibile con tutto quello che ci serve comunque dovremmo essere anche qua alle ultime battute qui sta inizializzando il database quindi come detto abbiamo realizzato solo le gestiamo realizzando le prime tre righe di queste istruzioni allora qui diciamo di solito va bene mettere yes qua ok password database administrative user quindi quello sarebbe di root dovreste mettere la stessa password di prima e anche questo credo ok ok poi al limite nell'articolo se ci fossero le differenze o se qualcuno mi segnala che appunto queste password devono essere diverse adesso non ricordo con certezza vediamo un po' quali sono i problemi comunque io nel dubbio sto mettendo la stessa password allora qui queste istruzioni qua mi diceva lì che non sono più necessarie perché sono intrinsec nell'installazione di mono invece quello che potrebbe essere necessario è riprendersi il nant però il nant dovrebbe già esserci quello giusto nant menu version dunque dunque la nant 091 che secondo me potrebbe andare dovrebbe essere installata ok quindi a questo punto noi abbiamo mono abbiamo nant abbiamo mysql che vedete che funziona quindi abbiamo un sacco ci abbiamo un po' tutto pronto e questo diciamo è la fase e abbiamo anche scaricato e anzippato la versione della sim qua quindi questo è diciamo il setup iniziale del sistema vedremo nel prossimo video invece il setup poi della sim di open sim propriamente detto spezzo un po' i video per semplicità